Forza Viola sempre e comunque, un saluto dal vostro India Violato. Dal 3 gennaio 2021 vi aspetto dopo ogni partita della Fiorentina con video di immagini, i commenti di amici e tifosi, i top e flop delle partite, aneddoti Viola, calcio mercato e tanto, tanto altro per stare sempre più vicini alla nostra squadra del cuore. Vi aspetto numerosi con l'arrivo del 2021, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno ma proprio nessun aggiornamento e Forza Viola sempre e comunque! Grazie a tutti!